Biglia Bianca Anche puntata numero 3, in studio, Giuseppe Apadula, Salvatore Di Martino. Ci siamo lasciati alla puntata numero 2, che Giuseppe ricorre al Tribunale per i minorenni di Roma per cercare di vedere normalmente suo figlio, nato nel febbraio del 2010. In che data ricorri al Tribunale per i minorenni? Io ricorro al Tribunale per i minorenni quasi subito dopo essere uscito di casa. Quindi intorno al 2013? Sì, fine 2012. Fine 2012. Mentre poi la madre del bambino fa un ricorso invece al Tribunale Ordinario. L'udienza del Tribunale Ordinario era... Un ricorso per che cosa? Un ricorso per richiedere l'affido esclusivo e comunque già su quel ricorso mi accusava di violenze domestiche. Allora, un attimo solo. Salvatore, ricordiamolo ai nostri telespettatori, avvocato e presidente dell'associazione MDM. Sì. Significa MDM? Mantenimento diretto, movimento per l'uguaglianza genitoriale. Abbiamo scelto questo acronimo MDM, ci conoscono tutti così. Benissimo. Allora, tecnicamente che cosa ha chiesto lui al Tribunale per i minorenni e che cosa ha chiesto tecnicamente la mamma del bambino al Tribunale Ordinario, al Tribunale Civile di Roma? Sono due domande totalmente diverse. D'accordo. Una che è finalizzata appunto a chiedere l'affido condiviso, quindi una pari ripartizione di compiti, di cure, di accudimento del figlio. Per superare le resistenze poste dalla mamma del bambino. Per superare le resistenze che erano frapposte dall'altro lato. Dall'altro lato invece abbiamo una domanda di esclusione dell'altro genitore. Qui siamo in presenza di una coppia sposata oppure no? Loro non erano sposati, non c'era un vincolo di natura matrimoniale. Quello che in questa fase, come dire, secondo me è importante dire ancora, è che in questa fase entrambe le domande, e questo è il punto, entrambe le domande sono teoricamente fondate. Perché da un lato abbiamo un genitore che non ritiene di lamentare particolari inadeguatezze dell'altro genitore rispetto al figlio, e viceversa c'è un genitore che in qualche modo lamenta una qualche inadeguatezza dell'altro genitore rispetto al figlio. Quindi in questa fase ci possono stare entrambe le cose. Quello che poi in qualche modo, come dire, dimostra i limiti del sistema è quello che è successo dopo. Cioè un sistema in cui, adesso poi ce lo racconterà meglio lui, ma una volta che il tribunale verifica le condizioni per cui non ci sono... Quale tribunale in questo caso? Se non ricordo male credo il tribunale... Per i minorenni? No, no, in questo caso è il tribunale ordinario. Il tribunale ordinario di Roma, verificata la... Adito? Adito dalla madre. Dalla mamma. Dalla madre. D'accordo. Verificata l'insussistenza delle condizioni per escludere il padre, in questo caso, dalla vita del figlio, e riconosce l'affido condiviso. Sì. Riconosce l'affido condiviso, a quel punto, e qui sono i limiti e tutta la fragilità del sistema viene fuori, e a quel punto iniziano di nuovo gli ostacoli passivi, sono sufficienti, come dire, un atteggiamento di resistenza passiva al provvedimento del tribunale, perché questo poi non possa materialmente essere eseguito. E da lì incomincia poi tutto il calvario. Allora, noi torneremo con delle prossime puntate ad esaminare i documenti processuali, li passeremo sotto la lettera di ingrandimento. Adesso invece li raccontiamo un po' più velocemente. Quindi, il tribunale ordinario, a dito dalla signora, dalla mamma, si pronuncia per la bigenitorialità, cioè per l'affido condiviso. Sì. È così? Sì. Ecco. Mettendo delle limitazioni, immagino, comunque in ordine al potere di vedere, ottenere con sé il bambino? Allora, il tribunale ordinario, ovviamente ci fu anche una CTU, proprio per la verifica, di cui diceva l'avvocato Di Martino. Per cui, alla fine, l'affido è condiviso, comunque per le cose straordinarie, comunque l'affido era stato dato ai servizi sociali. Cioè, attualmente ancora il bambino è affidato ai servizi sociali per ciò che riguarda scuola, sport e salute. E invece per le cose ordinarie è rimasto a noi. E comunque, io avevo, mi era stato concesso le libere frequentazioni. Ah, ecco. Quindi, assolutamente. Senza limitazione di giorni o di orari? No, avevano dato il martedì e il giovedì classico, i fine settimana alterni, il pernotto ovviamente nei fine settimana, dal venerdì alla domenica, e nel fine settimana che non avesse avuto il bambino, pernotava da me anche il giovedì. Diciamo quasi quasi un 50% insomma poi alla fine, no? Benissimo, quindi il Tribunale Ordinario di Roma, all'esito della richiesta, del ricorso, quindi presentato dalla signora, si esprime dicendo guarda che il papà può vedere e tenere con sé il minore, quindi il bambino, nato a febbraio del 2010, un minore che all'epoca, per quando si è espresso il tribunale, aveva 5 anni probabilmente. Beh, nel 2014, aprile 2014, quindi il bambino aveva 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo, quindi a 3 anni e mezzo si è espresso in questo modo dicendo guarda che papà Giuseppe lo può tenere il martedì, il giovedì e fine settimana alternati. Che cosa accadde però? Che quando papà Giuseppe andava a prendere il bambino, questo bambino non gli veniva consegnato dalla mamma, è così? Sì, diciamo sì, per essere precisi, poi il bambino ha avuto un problema di salute, quindi è stato ricoverato proprio nel periodo in cui è uscita la sentenza, e quindi poi uscito da questo piccolo periodo io, quindi un po' di convalescenza, mi sono recato a casa per prendere il bambino appunto come da sentenza e la risposta era al citofono, diciamo di chiunque la famiglia poi rispondesse al citofono, che il bambino non voleva scendere. Benissimo, avvocato Salvatore Di Martino, un bambino di 3 anni e mezzo, 4 anni, convalescente, può legittimamente esprimere il desiderio e non solo, volontariamente decidere di non voler vedere il proprio papà? Io non sono un esperto della materia, da un punto di vista tecnico rispetto a questo aspetto, so che la norma prevede che i bambini possano essere sentiti a partire dai 12 anni, e questo è un loro diritto. È chiaro che gli psicologi hanno gli strumenti per fare delle valutazioni in ordine alla libertà, a quella che può essere l'attendibilità del minore. Un bambino di 3 anni e mezzo, se non ci sono situazioni di abuso conclamato, io credo che difficilmente possa esprimere una volontà libera e consapevole. E chi può essere il portavoce del bambino? Chi può essere il portavoce del bambino? Coloro che vivono sicuramente più vicini al bambino sono in grado comunque, come dire, in qualche modo di farsi interprete. Quello che qua emerge è, come dire, che da un lato c'è l'assenza totale di situazioni ostative, quindi abuso, trascuratezza o altro, non ne sono state mai accertate. Quindi non sono mai state, sono state ricercate e non... Ecco, sono state ricercate. Sono state ricercate. Su questo ci entreremo, ci entreremo per non costruire tutto il tempo dell'appuntamento. Poi ne parliamo nel dettaglio. Ma ne parleremo nel dettaglio quando analizzeremo bene i documenti processuali. Non sono state riscontrate situazioni che in qualche modo potevano fare da ostacolo, costituire gli ostacoli alla frequentazione, e il tribunale decide che il bambino può stare tranquillamente con entrambi i genitori. Allora, papà Giuseppe va a casa del bambino, a casa della mamma del bambino, suona e chi gli risponde al citofono? Generalmente i nonni materni, perché la madre, nel momento in cui si deve andare verso le 4, insomma, le 16 più o meno, comunque la mamma era ancora al lavoro, quindi generalmente il fine settimana anche la madre, ma durante la settimana... o i nonni o la mamma si fanno portavoce del bambino, il quale il bambino avrebbe dichiarato coscientemente e volontariamente di non voler vedere il papà? Non è un problema che si siano fatti portavoce o meno, il problema è che in qualche modo la manifestazione di volontà del bambino non l'ha espressa liberamente dinanzi al padre, e questo non è stato garantito in questo senso il suddito. Che strumenti giuridici ha per poter ricevere direttamente quella decisione del pubo? Che strumenti ha? Un tema molto complicato, e come dicevo nella puntata precedente, evidentemente evidenzia tutta la fragilità del sistema, far rispettare con la forza, eseguire con la forza questi provvedimenti è molto complicato, per ovvie ragioni, e io credo che lo ha già detto prima, insomma, non sia mai stato... Con la forza vuol dire che lui avrebbe potuto... Chiamare la polizia giudiziaria, far vedere alla polizia giudiziaria il decreto presidenziale, in questo caso non so se è un decreto o una sentenza in questa ordinanza, mostrarla agli agenti di polizia giudiziaria sul posto, ed ottenere la consegna del bambino. È una situazione che succede quotidianamente, nell'ambito delle separazioni, ma anche in altri ambiti, anche per quanto riguarda molte volte, e lo abbiamo visto, riguardo anche agli affidi extrafamiliari, molte volte i bambini vengono prelevati dagli assistenti sociali, ovviamente, da personale specializzato, accompagnato ovviamente dalla forza pubblica, con tutte le precauzioni al caso, quindi personale anche senza la divisa. Ma non è questo il punto, il punto è la fragilità di questo sistema, perché un sistema così congegnato è un sistema molto complicato, molto oneroso da mettere in campo, e sarebbe invece più opportuno puntare, rafforzare, come dire, misure indirette di rafforzamento dell'efficacia dei provvedimenti all'autorità giudiziaria, a quali potrebbero essere, per esempio, le sanzioni, come è previsto, e che purtroppo anche qui vengono concesse con molta difficoltà, con molta ritrosia da parte della magistratura. Giuseppe, il bambino frequentava l'asilo? Sì. Ecco, tu non avresti potuto prenderlo al termine dell'orario normale dell'asilo, cioè il martedì e il giovedì, al termine dell'asilo avresti potuto prenderlo tu. Infatti questo è successo, diciamo, durante la CTU. Abbiamo detto che il primo periodo, comunque anche se andavo all'asilo, trovavo o i nonni materni o la madre che mi impedivano di prendere il bambino in quei giorni stabiliti. Alta. Allora, tu sei in possesso di un documento che dice che il martedì e il giovedì, ancora valido se non ho capito male. No, sono cambiate un po' di cose. È un provvedimento che l'autorizzava all'epoca era così. Tu il martedì vai a scuola, il martedì vai a scuola, all'asilo, vai a prendere il bambino e non riesci a prenderlo con te? No, no. Me l'ha impedito e ovviamente... Chi te l'ha impedito? C'erano i nonni materni, molto spesso, diciamo. Ma in che modo te lo possono impedire? Cioè, voglio dire, tu sei il papà, vai all'asilo, suoni per prendere il bambino. Ma c'erano già loro. Quindi o si trattava di fare sempre storie e già purtroppo capitavano. Il problema è questo. Tu andavi in giorni in cui non ti era consentito? No, no. Il problema è questo. Avvocato, se lui fosse andato in giorni in cui non gli era consentito, che cosa sarebbe accaduto? Sarebbe accaduto che legittimamente sarebbe stato possibile chiedere l'intervento alla forza pubblica. Così come avrebbe potuto far lui. Ma il punto è questo. Lui, a un certo punto, si è trovato, lui come tantissimi altri genitori, si è trovato di fronte all'alternativa tra ricorrere all'uso della forza pubblica per far rispettare un provvedimento dell'autorità giudiziaria, oppure, a tutela del bene del bambino, della serenità del bambino, evitare fare un passo indietro. Come la famosa madre della parabola di re Salomone, che di fronte all'alternativa tra vedere il figlio diviso a metà e salvare il figlio, ma rinunciare facendo un passo indietro, ha fatto lui. Lui, di fronte, ripeto, a una prova di forza in qualche modo e la tutela della serenità del figlio, lui ha preferito fare un passo indietro. Ed è una condizione frequente, moltissimi genitori. E l'atteggiamento dell'educatrice, qual è stata? O degli educatori della scuola? Parliamo quindi della scuola materna? Beh, l'atteggiamento è quello di non entrare troppo in queste dinamiche, in realtà. Volevo poi aggiungere una cosa a quello che ha detto adesso l'avvocato, è che io ho sempre avuto fiducia, ricordo che ancora erano i primi tempi, quindi io speravo sempre che la giustizia potesse risolvere il problema. Beh, ma lo sta risolvendo, sono passati neppure otto anni. Beh, a questo punto sì, diciamo. Quindi è chiaro che... Era una battuta la mia. Un sorriso molto amaro. È chiaro che l'atteggiamento delle maestre, dove sono quelli di cercare di evitare, di entrare, anche per evitare di magari di esasperare ancora di più il conflitto. Ma di fatto sei riuscito però qualche volta a prenderlo durante quel periodo, prima delle elementari, oppure no? Sì, allora io ho preso il bambino da solo e quindi già questo è indicativo, perché durante la CTU, perché la CTU a un certo punto ha dato delle regole, per cui io andavo a prendere il bambino nei giorni consentiti, quindi andavo a prendere a scuola. A scuola. Sì. E il bambino stava con me il pomeriggio, poi lo riportavo a casa. Allora la CTU, ricordiamolo, consulenza tecnica di ufficio, richiesta da chi? Dal Tribunale Ordinario. Dal Tribunale Ordinario. E la scuola rappresenta un luogo sicuro per poter andare a prendere i bambini, è molto comodo, perché quando poi non c'è la scuola che succede per il papà? E questo è un problema. Che cosa è accaduto appunto quando è terminata la scuola rispetto alle frequentazioni che ha avuto con il tuo figlio? Lui ovviamente all'epoca era ancora piccolo, quindi diciamo che io l'ho preso a scuola, l'ho detto, il periodo della CTU, insomma, se non ricordo male, forse da maggio 2013, ad aprile 2000, diciamo, beh no, forse un po' più oltre, diciamo per 7-8 mesi, fino a marzo 2014, diciamo così. Poi è uscita la sentenza del Tribunale Ordinario, e quindi proprio in quel periodo là per cui c'era una CTU, anche perché poi sta sotto CTU e impedire di andare a prendere il bambino sarebbe stato gravissimo, insomma, eravamo sotto... E al di fuori della scuola, che cosa è accaduto durante l'estate? Allora, durante l'estate... 2013 parliamo. Sì, esatto, è stato il 2013, siccome c'era sempre sotto la CTU, che è finita poi a novembre successivo, era un giorno io, un giorno la madre. Io andavo a prendere il bambino... A casa quindi? A casa. E non l'avevi ostato? Sì, me lo portavano giù al portone, io andavo e il bambino... Ma finita la CTU, ecco, finito questo periodo a marzo che il bambino ha avuto questo problema, da allora, quindi diciamo da aprile del 2014, quando andava a citofonare, il bambino non vuole più... non vuole scendere, non vuole venire. Parliamo di un bambino che all'epoca 2014 ha 4 anni. Sì, 3 anni e mezzo, tra i 3 anni e mezzo e i 4. 3 anni e mezzo e i 4. Dicevi, Salvatore? L'ho appena detto Giuseppe, finché c'è... purtroppo capita che finché ci sono i carabinieri in casa, e in questo caso molti genitori percepiscono la consulenza tecnica d'ufficio come il carabiniere che vigila sul rispetto delle regole e le regole vengono rispettate. Il problema nasce nel momento in cui il carabiniere, quindi in questo caso il consulente tecnico d'ufficio, conclude il suo periodo di osservazione e allora poi ognuno si ritiene libero di violare o di applicare i provvedimenti del tribunale così come ritiene più opportuno. Che cosa fa il consulente tecnico d'ufficio a conclusione della sua attività di osservazione? Il consulente tecnico d'ufficio fa una valutazione per il giudice di quelle che sono le migliori condizioni di allocazione del minore e di frequentazione dei genitori e individuo insomma dei momenti di frequentazione per entrambi. Tenuto conto ovviamente dell'età, della distanza tra le abitazioni, tenuto conto di problematiche particolari che possono esistere anche in situazioni come dire specifiche. Quindi fa una valutazione o dovrebbe fare una valutazione per il giudice che consegna al giudice che consegna al giudice e dalla quale il giudice poi terrà conto nella decisione e all'adozione dei provvedimenti del provvedimento finale con cui stabilisce tempi di frequentazione, modalità di mantenimento e tutto il resto. D'accordo, allora siamo ad aprile del 2014. Sì. Anche questa puntata è finita, quindi rimanete con noi e scoprirete come è andata poi a finire.